Ciao, sono Sofia Di Zegos, e oggi condividerò con voi un'analisi sui mercati finanziari elaborata dal nostro ufficio studi. Se apprezzi i nostri contenuti ti invito ad iscriverti al canale e lasciare un like. Asbro Il produttore di giocattoli ha dichiarato lunedì che taglierà altri 900 posti di lavoro a livello globale. Quasi un anno dopo che l'azienda aveva annunciato che avrebbe ridotto il 15% della sua forza lavoro a causa delle vendite deboli. Asbro aveva detto a gennaio che avrebbe tagliato circa mille posizioni a tempo pieno. I tagli di posti di lavoro annunciati lunedì portano il totale dei licenziamenti a 1900, ovvero il 29% della sua forza lavoro. I venti contrari di mercato che avevamo previsto si sono dimostrati più forti e persistenti di quanto pianificato, ha detto il CEO Chris Cox in un'e-mail ai dipendenti lunedì. Il produttore di action Fedio Transformers e del gioco Monopoli ha detto lunedì che la maggior parte dei suoi dipendenti sarà notificata nei prossimi sei mesi, mentre il resto avverrà nell'anno successivo. Asbro ora prevede di realizzare risparmi sui costi annuali lordi di circa 350 milioni a 400 milioni di dollari entro la fine del 2025, rispetto alla sua precedente stima di 250 milioni a 300 milioni di dollari. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale. Per maggiori informazioni visita il sito www.zeigosonline.com oppure se vuoi ricevere i nostri servizi in prova gratuita per un mese scrivi a info-zeigos.com. Zegos offre solo servizi informativi ed analitici sui mercati finanziari, non esercita in alcuna forma l'attività di consulenza personalizzata in materia di investimenti. Grazie.